L'impegno è quello appunto di mettere in sinergia le energie della Federico II, dell'Università Federico II e dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II per promuovere stili di vita sani. Questo attraverso una tentazione di prevenzione, attraverso una corretta informazione e attraverso messaggi semplici, molto lineari che possano consentire alla gente di aderire a piccoli comportamenti innovativi rispetto al quotidiano, un po' meno di sale, bere molto, piccole cose che però possono aiutare a guadagnare anni di vita in buona salute. Grazie a tutti.